Forse l'abbiamo fermato, Boo. Ora sei al sicuro. Fai la brava bambina, d'accordo? Basta, è durata fin troppo, James. Ora è a casa sua, lasciala in pace! Non posso farlo. Ha visto troppe cose. E anche tu. Non c'è bisogno di arrivare a tanto. Non ho scelta. I tempi sono cambiati, spaventare non basta più. Ma rapire dei bambini? Rapirei mille bambini pur di non far morire questa azienda! E metterò a tacere chiunque mi sbarrino strada! No! Buonanotte, mamma, buonanotte. Cosa? Cosa? Cosa è questo? Buonanotte, mia! Buonanotte, mia! Beh, non so cosa ne pensiate voi, ragazzi, ma io ho notato diversi errori gravi. Ma, 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 come hai? Ma come hai? Facciamo così. Ripassiamo la mia scena preferita. Che ne dite? Rapirei mille bambini pur di non far morire questa azienda! Cosa? Rapirei mille bambini pur di non far morire questa azienda! Capirei mille bambini pur di non far morire questa azienda! D'accordo, lo prendo io. Venga con noi! Fate, togliete i mili mani di dosso, non potete arrestarmi! Ora sarai soddisfatto, Sullivan! Hai distrutto l'azienda! La Monster's & Company è morta! E ora ti darà alla gente le urla che servono! La crisi energetica non farà che peggiorare! Grazie a te! Grazie a te!